Si è appena conclusa l'udienza preliminare sul caso Coingas, due le novità importanti. La prima è che c'è stata una integrazione di capi di putazione per Francesco Macri, presidente di Estra. Si aggiunge quindi il peculato rispetto al filone delle consulenze così definite d'oro. Quindi Macri con questo nuovo capo entra nel filone principale dell'inchiesta, quella appunto sulle consulenze d'oro. Un'altra novità importante è la costituzione parte civile di 15 comuni soci di Coingas, dopo che l'Assemblea aveva bocciato con il voto fondamentale del Comune di Arezzo che detiene il 45%, aveva bocciato la possibilità di costituirsi parte civile. 15 comuni lo hanno fatto autonomamente, sentiamo l'Avvocato Riccardo Laferla che ne rappresenta 12. Abbiamo rappresentato questo diritto dei comuni quali soci di Coingas di costituirsi parte civile e il giudice ha ritenuto fondata la nostra richiesta per cui ha messo tutte le costituzioni dei 12 rappresentati da me e più altri 3 comuni rappresentati da un altro collega. Quindi 15 comuni dei soci sono da questo momento parte del procedimento. Sì, qui siamo in fase di indagine preliminare, quindi non c'è nessuna ancora imputazione perché siamo in una fase proprio iniziale del procedimento, quindi nel caso in cui fossero ritenute fondate le ipotesi dei capi di imputazione appare evidente che i soci avrebbero subito un danno diretto perché comunque un ipotetico ammanco sostanzioso ricadrebbe al carico dei singoli comuni o come divisione di utili o come servizi non corrisposti. I legali di Bigiarini e di Sergio Staderini hanno annunciato la richiesta di rito abbreviato. La decisione verrà presa dal GUP nella prossima udienza del 27.